Siamo con Vincenzo Di Capo a play del BCC Basket Agropoli. Domenica contro il Corato si è uscito per 5 falli. Secondo me è stato un errore all'arbitrale o no? Domenica è stata una partita molto condizionata dall'arbitraggio. Permettevano un gioco molto maschio alla squadra ospite mentre noi poco e niente. Ho peccato anche io un po' di eccessiva foga perché in quel momento non mi sono reso conto che avevo 4 falli quindi forse era meglio starsene buone. Però sono cose che comunque capitano, fa parte del gioco. Domenica arriva il Rieti. Vittoria per cancellare Corato. Sì 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 sicuramente ci teniamo a riprenderci il fattore campo. Noi in casa abbiamo perso poco e le partite che abbiamo perso a parte Martina Franca su cui c'è qualche rammarico il resto sono partite comunque che sapevamo difficili. Quindi adesso arriva Rieti, una squadra comunque ben attrezzata e noi ce la metteremo tutta per portare a casa i due punti. Grazie al play di Castellammare di Stabbi. Grazie a voi.